Ci tenevo particolarmente da vice premia a fare in Libia la prima visita di amicizia tra i due governi e i due paesi. Ci sono alcuni paesi europei fra cui la Francia che ha proposto questi hotspot, questi centri di accoglienza in Italia e in Europa e questo sarebbe un problema per noi e per la Libia perché non si interromperebbe il flusso di immigrati. Per questo, siamo stati a fare iniziare a fare in Italia e iniziare a fare in Italia e iniziare a fare in Italia. La maggioranza in Europa perché se passasse l'idea francesi, americenti, l'Italia, l'Espania l'Istania non si riuscite.